Il piano di risanamento del bilancio Il piano di risanamento del disavanzo stimato nel 2016 in 13 milioni di euro nel decennio 2016-2025 emette le basi per poter affrontare diversi aspetti Una migliore efficienza nella gestione delle entrate comunali con un'attenta e scrupolosa gestione dell'evasione e della riscossione Una razionalizzazione delle spese, la riorganizzazione della pianta organica, una revisione del patrimonio disponibile Lo ha evidenziato l'assessore Savonese al bilancio Silvano Montaldo che ha anche sottolineato che se il piano di risanamento verrà approvato dagli organi competenti il bilancio del Comune di Savona riuscirà a superare un difficile momento finanziario ed iniziare a guardare ad un futuro senza particolari insidie Montaldo ha anche comunque nascosto che il piano richiede sacrificio e necessità di una forte e pesante ristrutturazione organizzativa e che quindi il Comune non potrà più garantire tutti i servizi che in passato venivano erogati La Liguria è la terza regione in Italia per i casi di violenze su minori Un triste primato che emerge dai casi registrati dal Telefono Azzurro Sentiamo Tra le varie classifiche a livello nazionale ce n'è una che non fa certo onore alla Liguria è quella relativa a casi di violenze su minori La Liguria è infatti al terzo posto a livello nazionale nella classifica delle regioni stilata da Telefono Azzurro per casi di violenza su minori negli ultimi 12 mesi La nostra regione, secondo le rilevazioni effettuate tra novembre 2015 e ottobre 2016 conta una media di 160 segnalazioni per milione di giovani residenti Peggio della Liguria in tutta Italia fanno solo il Lazio con 189 e la Sardegna con 177 In Italia sono quattro al giorno i casi di violenza su minore gestiti da Telefono Azzurro Negli ultimi 12 mesi sono stati seguiti 1.402 casi il 35,3% sul totale delle segnalazioni pari a 3.977 Le richieste di ascolto e aiuto per il 41,2% hanno riguardato bambini da 0 a 10 anni nel 32,1% preadolescenti da 11 a 14 anni e nel 26,8% adolescenti dai 15 ai 17 anni Nel dettaglio il Telefono Azzurro ha registrato nel 26,4% dei casi episodi di abuso psicologico nel 26,2% abuso fisico e nel 10,6% abusi sessuali Il Tribunale Amministrativo della Liguria ha respinto la domanda di sospensione cautelare presentata da un attivista no border contro il foglio di via obbligatoria adottato dal questore d'Imperia Il provvedimento di prevenzione era stato erogato a seguito dell'episodio di danneggiamento dell'autovettura della croce russa italiana a Ventimiglia avvenuta a maggio le immediate indagini svolte dal commissariato di Ventimiglia avevano permesso di identificare i due autori del gesto tra cui l'attivista genovese che si erano barricati all'interno dell'oratorio della chiesa di San Nicola opponendosi al controllo degli agenti Ed è polemica a distanza tra Giovanni Pastorino di Rete a sinistra e Alessandro Piana della Lega Nord sul campo di accoglienza migrante del Parco Roia L'esponente di opposizione ha accusato la regione di affrontare la questione in maniera leghista secondo Piana invece il buonismo non sarebbe rispettoso per i Ventimiglia Non è da un sopralluogo di mezz'ora che si può avere un quadro completo della situazione così il capogruppo della Lega Nord in consiglio regionale Alessandro Piana commenta la visita di Giovanni Battista Pastorino consigliere di Rete a sinistra al campo d'accoglienza del Parco Roia Ventimiglia L'esponente di sinistra aveva infatti dichiarato che è necessario farsi carico di un'emergenza sia di carattere generale sia sanitario ed umano sulla quale la regione non può pensare di ragionare in maniera leghista Fare i buonisti non è opportuno né tanto meno rispettoso nei confronti dei cittadini che da troppo tempo convivono con problemi di degrado e delinquenza ha ora risposto Piana Dalla visita di pochi minuti non si possono avere tutte le informazioni necessarie né tanto meno è opportuno rilasciare dichiarazioni velatamente polemiche Le criticità non riguardano soltanto la struttura ricettiva e come vengono accolti gli immigrati ma bisogna osservare anche tutto quello che c'è intorno I cittadini sono esasperati, prosegue, perché da troppo tempo sono costretti a convivere con degrado e delinquenza Chiudere gli occhi facendo i buonisti non è opportuno né tanto meno costruttivo e rispettoso nei confronti degli abitanti Prima di fare certi commenti, ha concluso il consigliere regionale della Lega Nord sarebbe il caso di avere una panoramica completa della situazione magari facendo un giro in città per ascoltare chi li vive ogni giorno e non solo per mezz'ora In un momento in cui la sicurezza è tra le priorità dei cittadini sono in arriva a Sanremo 8 nuovi agenti della Polizia Municipale che saranno assunti a tempo determinato per 6 mesi Gli agenti saranno impiegati nel controllo del territorio Sentiamo Pagare le multe stradali non fa piacere a nessuno Se però questi soldi vengono utilizzati per la sicurezza ed il controllo del territorio allora la pillola è più dolce A Sanremo, per esempio, la Giunta Comunale ha adottato la delibera relativa alla destinazione per l'anno 2017 del 50% dei proventi del Codice della Strada Nel dettaglio, il 25% sarà destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale Un altro 25% sarà invece destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di automezzi e attrezzature della Polizia Municipale Infine, il restante 50% sarà destinato ad un miglioramento della sicurezza stradale relativo alla manutenzione delle strade, all'installazione e manutenzione delle barriere e ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti Inoltre è previsto lo svolgimento da parte della Polizia Municipale nelle scuole di ogni ordine e grado di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale Importante poi il capitolo relativo ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro che porterà quindi ad un aumento di agenti sul territorio e a finanziamenti di progetti di potenziamento dei servizi di controllo anche notturni per la sicurezza urbana e stradale Le previsioni legislative ci consentono di destinare i proventi dell'articolo 208 del Codice della Strada anche per l'assunzione di personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro commentano il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ed il presidente del Consiglio Comunale Alessandro Il Grande Un'importante opportunità che permetterà di avere otto agenti in più per sei mesi così da aumentare il presidio sul territorio durante alcuni periodi particolari dell'anno La contraffazione e l'abusivismo commerciale ha approfittato anche l'ugure del giubileo straordinario della misericordia Durante l'ultimo anno sono stati infatti molti i fedeli e i pellegrini in transito nella nostra regione verso Roma ai quali sono stati venduti articoli con marchi o contraffatti servizi In occasione degli eventi connessi al giubileo straordinario della misericordia sono stati intensificati anche in Liguria i controlli contro l'abusivismo commerciale I militari della Guardia di Finanza di Genova hanno complessivamente sequestrato oltre 89.000 oggetti falsificati e in procinto di essere venduti a pellegrini e turisti Si trattava nella maggior parte dei casi di articoli di moda e gadget Nel corso dei controlli svolti in attuazione del più ampio dispositivo di contrasto alla contraffazione e di tutela del Made in Italy sono state inoltre denunciate all'autorità giudiziaria 95 persone responsabili per i reati di ricettazione introduzione, produzione e commercializzazione nello Stato di prodotti con segni falsi A tutela del mercato dei beni e servizi della sicurezza dei prodotti e del Made in Italy la Guardia di Finanza di Genova nel 2016 ha eseguito un totale di 372 interventi procedendo al sequestro di oltre 11 milioni di prodotti contraffatti o non sicuri oltre alla denuncia di 316 responsabili di cui due in stato di arresto E dopo le numerose proteste di automobilisti di una follata assemblea è giunta la decisione di sospendere le multe dei due autovelox presenti lungo la provinciale numero 6 nel comune di Albenga che sono stati a loro vota disattivati Soddisfatto per questa soluzione si è dichiarato il sindaco di Villanova Pietro Balestra Signor Sindaco, qual è il suo commento dopo le ultime decisioni in merito alle multe e agli autovelox posizionati sulla provinciale numero 6? Finalmente una notizia positiva che arriva dal prefetto che ha fatto questo comunicato dove praticamente ha invitato la provincia a sospendere ogni determinazione ogni attività riguardo gli autovelox in attesa che venga verificata la legittimità o meno dei due impianti installati Ecco ci sono state molte proteste da parte degli automobilisti negli ultimi tempi Tantissime di fatti l'illogicità di questi impianti è data dall'enormità di gente di sanzioni elevate che sono illogiche, naturali, assurde cioè capisci quindi ieri c'era una riunione e ci sono 700-800 persone ma tutta gente che lavora l'anziani sono a disperazione per questa vicenda quindi ci auguriamo e lo spieghiamo che queste multe vengano tutte annullate e poi si riparta da zero facendo le cose per bene Si parla anche di una possibilità di alzare i limiti di velocità applicando poi i controlli dell'autovelox Lei cosa ne pensa? Ma sì, si può fare tutto cioè io non voglio l'importante è che si facciano cose trasparenti che si possano capire, vedere, eccetera e che non siano trappole messe lì per gli automobilisti quindi tutto va bene l'importante è solitanto prendere atto che queste multe fatte sono legittime e quindi annullarle tutte e poi chiaramente ci saranno i tecnici che diranno dalla migliore giudizio la polizia che so io i tecnici della prefettura della provincia che diranno secondo loro cosa ci vuole però ecco prima non dopo Prestigioso riconoscimento per nuovi stabilimenti balneari delle province di Imperia Savona che per i primi in Italia hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento della certificazione ISO 13009 assegnato dalla RIN il registro navale italiano i stabilimenti per ottenere questa certificazione hanno dovuto predisporre un sistema di protocolli specifici per l'emergenza sia a terra sia in mare la sicurezza e il rispetto dell'ambiente e i servizi offerti alla clientela vediamo si tratta di un'importante certificazione internazionale europea si tratta di qualità si tratta di gestione di stabilimenti balneari si tratta di migliorare i servizi e migliorare la nostra capacità di rapportarci con la clientela per offrire sempre un servizio migliore e più efficace visto che è un riconoscimento che è il primo sono i primi stabilimenti certificati in Italia con questo importante standard internazionale è un riconoscimento del grande lavoro che abbiamo svolto sia come associazione di categoria ma anche come stabilimenti balneari in accordo con RINA il primo protocollo assoluto in Italia e questo per noi è importantissimo ci gratifica molto del tempo perso per poterlo realizzare ma al momento il problema della BOLC se ne installo aspettiamo sempre una risposta dal governo che sembra che prima del referendum non voglia convocarci o non voglia diciamo far vedere le sue carte questa è un altro importante tassello verso quella qualificazione dell'esperienza acquisita degli stabilimenti balneari di quella esperienza che noi mettiamo e abbiamo sempre messo negli anni hanno creato il nostro sistema turistico e quel continuo aggiornamento che noi facciamo ogni anno per cercare di migliorare l'offerta per cercare di migliorarci è un work in progress che non non si ferma mai a qualsiasi età un riconoscimento importante alle spiagge Liguri ma in questo caso alle spiagge della provincia d'Impera che si distinguono per la qualità per un lavoro che va avanti da diverso tempo e che portano dei riconoscimenti importanti per quanto riguarda la qualità ovviamente il tema delle spiagge in Liguria non può che essere un tema centrale determinante per il rilancio economico turistico del nostro territorio noi siamo la regione d'Italia con il maggior numero di concessioni dei maniali abbiamo migliaia di imprese che svolgono un grande lavoro un importante lavoro sul territorio abbiamo anche un'ottima cultura delle spiagge libere delle spiagge libero attrezzate sapere che ci sono imprenditori che investono che quindi ottengono riconoscimenti sulla qualità delle loro spiagge vuol dire che si sta lavorando seriamente noi siamo al fianco di queste imprese anche per quanto riguarda le problematiche della cosiddetta direttiva Bolkestein che questi dati i risultati di oggi sono un'ulteriore dimostrazione che le penalizzazioni che arrivano dall'Unione Europea sono inaccettabili per le nostre imprese sono inaccettabili per i nostri territori perché le nostre imprese stanno facendo un lavoro molto serio difficile adesso si è parito con la provincia di Imperia ma siamo sicuri che questo lavoro si potrà allargare tutta la regione Liguria quindi il prossimo anno celebreremo più spiagge con questo riconoscimento di qualità però dobbiamo anche avere la possibilità dal governo e dall'Europa di poter lavorare con maggior serenità con maggiore anche possibilità di pianificare il futuro è stato approvato dall'aggiunta regionale su proposta dall'assessore all'urbanistica Aldemanio Marco Scaiola il progetto per l'insediamento di una nuova struttura finalizzata all'attività sportiva del windsurf nel comune di Riva Ligure l'intervento prevede la realizzazione di una struttura leggera in legno che ne consente un inserimento coerente con le esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale nell'ambito costiero interessato secondo Scaiola si tratta di un'iniziativa in sintonia con le richieste di innovazione e diversificazione dell'offerta turistica che può costituire l'occasione per riqualificare un tratto del litorale numeri record per la ventunesima edizione di orientamento il salone dell'orientamento della formazione del lavoro che si è chiuso ai magazzini del cotone di Genova con oltre 60.400 visitatori in totale il salone ha contato 8.000 genitori 4.400 docenti ed educatori 5.000 giovani in cerca di lavoro 43.000 studenti che hanno visitato gli stand e partecipato agli incontri programmati in servizio questo è stato un salone dei record perché abbiamo superato i 60.000 ragazzi presenti e 60.000 è una cifra è un traguardo che era difficilmente immaginabile anche nelle diciamo più positive aspettative avevamo chiuso lo scorso anno intorno ai 45.000 e già avevamo avuto un incremento rispetto ai 40.000 dell'anno precedente adesso siamo a 60.000 è davvero qualche cosa di importante quello che è successo è un fenomeno quello che si è realizzato a Genova in questi giorni è un flusso di giovani che sono arrivati per avere e sono stati più di 5.000 colloqui di lavoro ma perché c'erano 4.000 posti messi a disposizione dalle aziende che hanno partecipato al Carer Day aperto appositamente per questo salone ovviamente si tratta per la maggior parte di posti di lavoro a tempo determinato ma la coda dei ragazzi il fatto che fossero qua che ci credessero hanno fatto i colloqui e ovviamente verranno richiamate adesso nell'arco di credo un mese un mese e mezzo da quelle aziende che poi li sceglieranno ma intanto c'è stato un primo filtro che è stato importante qui al salone ma poi soprattutto sono stati ragazzi di tutta l'età delle medie delle superiori anche dell'università interessati a orientarsi per la vita per il futuro e interessati tanto agli stand quindi a tutto quello che l'offerta formativa poteva offrire poteva mostrare e mi riferisco alle scuole che si sono esposte vedete li stanno smantellando adesso ma anche gli enti di formazione professionali hanno potuto già esporre la programmazione del prossimo anno soprattutto dei triennali quindi dei corsi che si attiveranno nell'età dell'obbligo e questo è stato possibile perché per la prima volta la regione Liguria è riuscita a portare i corsi della formazione qui al salone già programmati per il prossimo anno già si sa quale ente farà che cosa e quale ente farà il corso per l'estetica per la collidenza turistica quali per il legno o per il corso di edilizia io credo che sia importante averlo fatto qui al salone perché ha significato dare piena totale pari dignità alla formazione professionale e al percorso di studi normali la scorsa notte ha visto il personale della polizia di stato a far fronte a tre importanti arresti i primi due sono stati compiuti alla frontiera di Ventimiglia a carico di due tunisini con numerosi presidenti di polizia rispettivamente di 45 e 32 anni residenti entrambi in Francia che avevano caricato su un furgone tre clandestini privi di documenti condotti in ufficio per gli arrepimenti del caso sono stati arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e poi processati per direttissima il terzo arresto è avvenuto durante il controllo sui passeggeri di un pullman proveniente da Marsiglia diretta a Genova un algerino di 30 anni malgrado fosse in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Genova in effetti risultava sottofasso un uomo pluripregiudicato per numerosissimi reati contro il patrimonio e ricercato a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Genova dovendo espiare una pena definitiva di ben sette anni di reclusione per rapina furto aggravato riciclaggio per una serie di reati commessi tutti nel genovese ed è morto ieri sera Don Angelo il salesiano di 81 anni che la settimana scorsa era stato soccorso all'interno della parrocchia di Don Bosca a Valle Crozia dopo essere caduto da una scalinata per cause accidentali ed era stato soccorso da un confratello che aveva subito chiamato il 118 Don Angelo sembrava essersi ripreso ma le sue condizioni erano comunque apparse subito gravi è morto appunto ieri all'ospedale i funerali si terranno domani poveriggio alle 15.30 presso la chiesa di Maria Ausiliatrice a Valle Crozia facciamo una breve pausa tra poi ancora servizio e notizie nella seconda parte del giornale Buone notizie per i coltivatori Liguri in pensione secondo le ultime stime infatti in arrivo un aumento della quattordicesima tra 101 e 151 euro l'anno sentiamo Secondo una stima della Feder Pensionati della Coldiretti Liguria 31.765 pensionati coltivatori di Retti Liguri dovrebbero beneficiare dell'aumento della quattordicesima in una misura variabile dai 101 ai 151 euro l'anno l'aumento della quattordicesima per i pensionati è una notizia positiva ed è resa possibile grazie alle misure previste nella legge di bilancio 2017 varata dal Consiglio dei Ministri e ora al vaglio delle Camere ha commentato Gerolamo Calleri presidente di Coldiretti Liguria il risultato era atteso da anni e fortemente sollecitato dalla stessa Coldiretti la variazione rappresenta un traguardo importante per recuperare almeno in parte il potere d'acquisto perduto e per portare sollievo alla situazione di difficoltà attraversata da molti coltivatori pensionati Liguri e dalle loro famiglie nonostante le diverse segnalazioni avanzate da Alessandro Condò leader della destra Sanremo resta pericolosa la situazione in zona San Pietro nella città dei Fiori a causa delle condizioni della strada stamani siamo andati a verificare vediamo muri speccati pietre rotolanti massi sul ciglio della strada non stiamo parlando dei Rolling Stones ma di zona San Pietro a Sanremo è così? Sì effettivamente la situazione è questa qui noi abbiamo presentato a maggio di quest'anno una richiesta di interventi urgenti per frazione San Pietro e Monta di Lanza proprio perché come potrete vedere dalle immagini ci sono queste situazioni di estrema pericolosità che perdurano da almeno una quarantina d'anni la pericolosità è su due fronti nel senso che sia lato strada diciamo come potete vedere ci sono delle zone che sono già franate con dei massi che hanno rotolato tranquillamente in mezzo alla strada quindi capite bene che questo rappresenta un pericolo e poi anche il lato mare dove manca completamente la protezione quindi chiaramente per chi percorre queste strade sia in moto che in macchina la situazione di pericolo è sempre imminente recentemente sono state fatte su numerose sollecitazioni perché insomma noi da maggio ripeto che ci stiamo dietro con tanta passione e anche tanta dedizione elevando del tempo ai nostri lavori siamo riusciti a ottenere un piccolo intervento che ha tamponato solamente le situazioni di estrema pericolosità non le ha certamente risolte perché le situazioni permangono tuttora queste le cause sono molteplici nel senso che negli anni per esempio i camion della spazzatura che in queste zone sono passati almeno per una decina di anni circa 7-8 anni superando il limite del peso qui c'era un divieto di 40 quintali mentre i camion della spazzatura sono molto più pesanti perché sono addirittura quasi 4 volte superiori quindi chiaramente questo ha contribuito a far franare la strada però gli interventi che ci sarebbero da fare non sono certo quelli che sono stati fatti qualche giorno fa quindi prendiamo atto di questo però la situazione permane grave Qual è la vostra proposta? La nostra proposta è questa e poi comunque è anche molto semplice siamo perfettamente consapevoli del fatto che il comune a causa delle difficoltà che conosciamo non abbia a disposizione i fondi da mettere a disposizione per poter intervenire però bisognerebbe iniziare a ragionare in un'ottica di programmazione negli anni cioè nessuno chiede di spendere 150 200 mila euro subito però pensiamo nei prossimi anni di spendere delle cifre un pochettino più piccole per fare degli interventi mirati che possano essere garantire un po' più di tranquillità alle persone che percorrano queste strade ragionando in quest'ottica sicuramente si può negli anni futuri arrivare a una situazione un po' più di tranquillità e soprattutto di sicurezza quindi la proposta che facciamo noi è questa qua cominciare a ragionare in questa direzione poi come San Pietro ci sono anche altre frazioni che hanno gli stessi problemi quindi questo è un discorso che si può tranquillamente allargare anche a Verezzo anche a Coldirodi eccetera quindi insomma la proposta è questa qua quello che proponiamo noi penso che sia una cosa fattibile non la vedo una soluzione così impossibile ecco siamo all'angolo di Daniele Lacorte che oggi ci parla della Luna dei suoi influssi sulle persone ma anche di sanità quanto abbia influito la Maxi Luna sulle ansie sul rilassamento di uomini e donne forse fra qualche settimana potremo saperlo grazie a non meglio identificati guru della statistica oggi si può tutto nulla è impossibile gli sbalzi di umore fanno parte dell'umanità e da sempre si interpretano con i cambiamenti di Luna l'unico satellite naturale della Terra influenza non poco la vita di ognuno di noi forse bisognerebbe studiarne di più i cambiamenti legati al carattere delle singole persone sembra dato non verificato che i politici siano i più lunatici di tutti una categoria particolare che credevamo sino a poco tempo fa che più che cambiamenti di umore fossero più avvezzi al cambiamento di casasca in senso di partito poi da un'analisi attenta salta fuori che in verità non sono soltanto i rappresentanti dei partiti che cambiano idea c'è il dipendente pubblico che per salire la scala gerarchica si affida per ottenere favori a questo o a quell'altro notabile è l'antico ritto della raccomandazione del servigio per ottenere riconoscimento una cosa a te una cosa a me ricordate il manuale cencelli quello della spartizione equa tra le forze politiche dalla destra alla sinistra al centro gli uomini e le donne della nomenclatura vi diranno che non è vero niente che nel pubblico come nel privato la lottizzazione la spartizione delle poltrone non ha nessun legame con l'appartenenza partitica ma mi faccia il piacere direbbe Totò ma i lunatici emergono ancora di più pensiamo soltanto alla sanità pubblica che oggi in molti vorrebbero privatizzare la politica a braccetto con la mala sanità che da troppo tempo inferversa pensa a creare a distruggere in una logica berrante che non vede l'uscita dal tunnel dall'insensatezza oggi si parla di organizzare ospedali e presidi medici in molte località sono già scomparsi i pronto soccorso e i lunatici i politici non si capisce mai cosa vogliono veramente costruiscono poi distruggono prendiamo per esempio la Liguria si vuole risparmiare su tutto su farmaci e su ricoveri parlano di accorpare l'ospedale di Imperia con quello di Sanremo quello di Albenga con il Santa Corona di Pietraligure e nello specifico che ci chiediamo perché non risparmiare su certi iperbolici stipendi agli amministrativi ospedalieri ai manager e il perché dico sempre meno i medici in corsia sono sempre meno numerosi ma intanto alla faccia del risparmio c'è già in molti casi la nuova corsa al primariato nascono nuovi ospedali nascono nuovi primari cambia il colore in regione cambia anche il colore del camice sarebbe interessante sapere quanti ipotetici nuovi primari sono di nuovo ai blocchi di partenza sono iniziati questa mattina ad andare i lavori di realizzazione di un giardino intorno al campo polivalente delle scuole primarie e secondarie di primo grado di via Cavour le opere prevedono la posa di un impianto di irrigazione di nuovo terriccio e la semina di un bel prato che accoglierà anche due piante d'urivo sarà un'area verde calpestabile che i bambini potranno utilizzare per giocare ha detto il sindaco Mauro De Michelis ultimata la semina sarà solo necessario attendere i tempi naturali della crescita dell'erba e continua la gara di solidarietà dei tassisti genovesi in favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto il circolo tassisti di corso Safi 27 sarà aperto dalle 10 alle 20 da venerdì 25 a domenica 27 per ritirare abbigliamento calzature invernali coperte generi di prima necessità per il comune di Posto in provincia di Rieti parallelamente prosegue anche l'iniziativa una corsa per Amatrice il cui ricavato sarà consegnato al sindaco di Amatrice il 6 gennaio da una delegazione di tassisti da ogni parte d'Italia prestigioso riconoscimento attribuito all'arte culinaria in Pariese dalla guida Michelin 2017 è motivo di orgoglio per l'intera città così l'assessore al turismo del comune d'Imperio Simone Vassallo commenta l'inserimento di due ristoranti imperiesi nella guida da sempre punto di riferimento per tutti gli amanti della buona tavola essere fra i 10 ristoranti dell'intera regione che si freggiano di questo importante distintivo ha concluso Vassallo e volano per la promozione e lo sviluppo della componente turistica in occasione della festa di Cristo Re Aifo l'associazione Amici di Raul Follero insieme alle volontarie dei laboratori della parrocchia di Cristo Re e di Cervo organizzano sabato e domenico una mostra a vendita di ricami e lavori a maglia e cucito il ricavato servirà a sostenere i progetti Aifo per i bambini in Brasile sabato la mostra resterà aperta dalle 15 alle 19 e domenica dalle 9 alle 12 e 30 e dalle 15 alle 19 si terrà domani ad Andorra una serata per valorizzare e parlare dell'importanza di lavoro artigiano premiare chi si è distinto nella professione e coinvolgere le nuove generazioni l'appuntamento si terrà alle 20 e 30 nella sala polivalente di Palazzo Tagliaferro con un incontro sui temi che riguardano gli artigiani e la loro attività e la consueta cerimonia di consegna di riconoscimento agli operatori savonesi e sempre come l'Itandora ha accettato la proposta di gemellaggio con quello norvegese di Larvik Patria di Thor Enderland il grande esploratore che nel 1956 fece del borgo andorese di Colla Micheli suo buon ritiro ancora prima che sia sottoscritto solenne giuramento di fratellanza una delegazione norvegese ha fatto visita ad Andora ed ha incontrato il sindaco Mauro De Micheli per presentare una serie di progetti culturali sportivi economici di scambio con il comune Ligure la delegazione ha inoltre visitato alcune aziende del territorio apprezzando i prodotti tipici locali bene ora veniamo alle nostre rubriche appuntamenti di Riviera 20 Autofiore Quadro Meteo Autofiore 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 careggiata chiusa con doppio senso sulla careggiata opposta per lavori escotà in territorio francese dal 14 al 20 novembre tra arma di taggia ed imperio ovest careggiata chiusa con doppio senso sulla careggiata opposta per adeguamento sismico del viadotto taggia dal 14 al 20 novembre tra al beng del borghetto Santo Spirito e chiusura della corsia di sorpasso per installazione delle barriere di sicurezza dal 14 al 20 novembre vediamo il quadro meteo con arpa al meteo di Guglia le previsioni per domani venerdì 18 novembre il transito di una saccatura dal nord Europa determina condizioni di instabilità con graduale peggioramento della copertura nuvolosa nubi diffuse e possibili precipitazioni sparse al mattino dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni che potranno assumere carattere temporalesco di forte intensità con quantitativi significativi in particolare sulla parte orientale della regione umidità su valori alti venti settentrionali apponenti deboli moderati forti sul Savonese in prevalenza da sud-est a Levante in graduale intensificazione in serata in mare sarà poco mosso a Ponente e da poco mosso a Mosso a Levante la protezione civile segnala bassa probabilità di temporali forti nei territori costieri delle province di Savona Genova e La Spezia e nell'entroterra genovese con cumulate significative e piogge di intensità moderata nel Levante e vento nel Savonese dopo domani sabato 19 novembre ancora condizioni di maltempo con precipitazioni a carattere temporalesco e quantitativi significativi fino al mattino a Levante nel pomeriggio residui piovaschi sparsi e schiarite apponente cielo parzialmente nuvoloso in graduale miglioramento nel corso della giornata umidità su valori alti venti deboli in prevalenza meridionali il mare generalmente mosso in serata localmente molto mosso per onda da sud-est a Levante la protezione civile segnala bassa probabilità di temporali forti nei territori costieri delle province di Savona Genova e La Spezia nell'entroterra genovese con cumulate significative piogge di intensità moderata nel Levante e noi ci fermiamo qui l'appuntamento come sempre alle prossime edizioni sul nostro sito imperativo.it sulla pagina facebook sul profilo twitter grazie per essere stati con noi a tutti voi e una buona serata grazie per la visione alle prossime a tutti a tutti Grazie per la visione!